no ma è sempre girato l'omale sto stronzo alto sinistra ci sto vai e vaffanculo vai arrivo e basso a destra basso a destra sto andando vai siete in 26 il cecchino non deve morire ha deciso che non muore sono io il corridore se parte da alto a destra o niente l'altra alto a sinistra vado io ci sto ci sto la soccola che spara presa scendete danno prego ok anche troppo vedi che c'è le speciali eh sotto troppo a sinistra aiuto raga che ho buttato tutto le meno uno io ho visto pesante piastra basso a destra vado 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 io non riesco a recuperare vita incredibile ma io non ne impie munizioni ma guarda a me mi ha quasi ripienato veramente preso scendete cavaliere basso a sinistra va andato 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 vai te ok vengo io vengo io prendemelo aspetta aspetta sei io sei alto a sinistra no 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 devo io vi con lui se no no non poteva scendete gli altri preparatevi per danno raga mi sa che mi ammazza no ti prego no no eh mi sta sparando preso 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 danno presto io ok è un gatto arrabbiato è il mio e continuerà a essere arrabbiato guarda lo faccio a parlare come uno dei miei le patate il gatto come un coniglio che si sapore hanno oh finita la munizione stavo tentando di sparare ok basta cavaliere basso-destra sono un po' carente di munizione adesso oh io corro non posso aiutare va basso-destra ok e dai ma io l'altro lo sai basso-sinistra basso-sinistra devo aspettare un attimo perché non riesco a recuperare a vita va a fanculo ok guarda che ci muoio bastarda figlia di puttana presa scendete a basso-destra ci sono corro io rega alto-sinistro fate alto-sinistro copritemi la piastra corro io ragazzi io non c'ho per fare l'alto-sinistra quindi dai rega ci vengo io dai rega dai devo non morir però ok dai rega dai dai rega dai dai fatelo fatelo va 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 sta andando sta andando devo pulire un attimo alto-destra 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 vado all'alto-destra rilasso ok è il secondo questo? si si preso scendete sono io sono io il fantasma cavaliere alto-destra ragazzi il cavaliere non c'ho niente per sparare io ragazzi sono il fantasma c'è speciale io c'ho il delirio qua va andato ok l'altra basso-sinistra vado io vado io ok madonna mi ha tirato una botta nel mentre che salivo che non so 26 secondi dai facciamolo il giro sti cazzi vai scendete scendete vai dai buttamola giù ragazzi si si questa si è uno ok fermi 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 puliamo puliamo intanto ragazzi no fermi nel senso non scendete il cavaliere sta cavaliere non lo vedo è in alto è in alto sinistra ok io so full raga vi dico solo questo alto sinistra raga ci sto e la piazza è basso-sinistra ci vado io ci vado io ok uno due cavaliere basso-sinistra datemi una mezza mano ok andate andate vai Jimbo rimani te no no perché te sei il cavaliere scusami vai vedete che sto morendo sì sto morendo per i picchini capito eh resisti un secondo giù giù corro io il cavaliere basso-sinistra di nuovo ah ce la faccio la faccio posso rimontare vero io è l'ultimo giro questo ragazzi sì ragazzi vai sto sopra si va ad alto-sinistra c'è sto andà c'è sto non va niente non va niente l'importante è che non tutti affadanno tranne le idee piastre preparatevi affadanno animatelo l'ho preso l'ho preso oddio l'ho preso prendiamo ammazzatela vai ammazzatela fate danno fate danno è un attimo devo ritorna su ah sì aspettate devo ancora prendere il buff vai no no ma non ce la faremo mai quanto gli manca eh ah sì sì abbiamo i secondi ragazzi basta non se vuoi di come sto perché c'è una ragazza però dai no se vuoi di se vuoi di un po' tassai dai dai che ce la famo ciao bella ah rega ma che salvato ha fatto scusatemi che l'ho presa in volo comunque in volo senza piastra l'ho presa mamma mia ma lo sai che mi è successo a me air wash ma seccato per forza è fusione ovviamente figlio di cazzo non c'ho cos'è che non sto libero mamma mia che salvata rega mamma mia guarda te lo giuro air wash guarda se dire salvati ho rimiso e lo shottavo io air wash mi ha buttato giù in un secondo il castigo di Calchis tormentata è rossa ma non mi piace grazie di tutto alla prossima ciao ciao ragazzi ciao ragazzi ciao occhio del ciclo mamma mia brutta che poi fabbè no tu ciao